Buonasera a tutti, oggi parliamo di liquid food che sono una famiglia di ingredienti estremamente eterogenea perché con questo nome di fantasia, cibo liquido che non significa niente di particolare, indichiamo un insieme di prodotti di origine vegetale, il core step liquor, l'estratto di tiger nut, il burro di arachide e anche di origine vegetale, scusate, di origine animale L030, proteine di pesce in forma liquida, krill in forma liquida, proteine del salmone in forma liquida, GLM in forma liquida e così via discorrendo. Quello che caratterizza questa grande famiglia è la forma liquida sostanzialmente e il fatto che queste sostanze apportino molto gusto, sono estremamente gustative, quindi inserite nell'esca la caratterizzano come gusto a trazione secondaria e apportano anche una discreta nutritività. Il liquid food, attenzione, è meno nutritivo della farina corrispondente. Se io prendo un L030, che altro non è che è la forma liquida del predigerito di pesce, cioè nel processo di produzione della farina fish meal pre digest, se io mi fermo allo step prima della spray, dove viene seccato con questo oggetto spray, ho l'L030, che è sostanzialmente la farina predigerita ancora ricca di umidità, di acqua in forma quindi liquida, una sorta di sciroppo denso. 100 grammi di forma liquida e 100 grammi di farina predigest hanno una differente nutritività, molto più bassa nella forma liquida, perché? Perché c'è dentro anche l'acqua che non nutre affatto, ok? Quindi le forme liquide dei predigeriti di origine animale si attestano in genere attorno al 40% di proteine contro il 70, 80, 90% dell'estratto in forma solida, ok? Però la forma liquida è più propensa ad uscire dall'esca e a dare quindi una trazione primaria, oltre che secondaria. attraggo la carpa sull'esca e la spingo a nutrirsene con avidità. Sono ingredienti eccezionali, sono gli ingredienti del nuovo millennio, perché negli anni 90 non c'era una grande disponibilità di liquid food, c'era una buona disponibilità di integratori di cui abbiamo parlato nella pillola precedente. Gli unici liquid food degli albori erano il Cornstep Liquor, perché questo ingrediente esiste da sempre in quanto è legato all'industria che produce la birra, gli alcolici e via discorrendo, è un sottoprodotto di scarto di quell'industria, usato in mangimistica da sempre, peraltro, e c'era la melassa, che è sempre un prodotto intermedio dell'industria che produce lo zucchero, grande disponibilità, costo molto basso, e poi vi erano dei prototipi di quelli che sono i liquid food attuali, dove alcune aziende si spingevano nel realizzare il loro prodotto, che era in genere composto dell'integratore farmaceutico, sciolto in un gel zuccherino, in linea di massima lo sciroppo di mais, che è lo stadio precedente della produzione del fruttosio, e addizionato magari di qualche palatant, che altro non sono che degli aromi in polvere, cioè degli aromi fissati su maltodestrine, creando per cui un connubio gustativo-nutritivo stuzzicante e anche estremamente personalizzabile e quindi caratteristico per la singola azienda. Ai giorni nostri invece ci si può sbizzarrire con una quantità di prodotti disarmanti, perché si va dalla ragosta liquida a qualsiasi forma di predigerito animale, e questo ci permette effettivamente molteplici soluzioni, fermo restando l'aver chiaro che questi liquidi hanno un dosaggio minimo, che è il minimo indispensabile per sentirli all'interno dell'esca, attorno ai 20-30 ml per chilo di mix, ma non hanno un dosaggio massimo, cioè mi posso spingere fino al massimo che la boily è in grado di contenere, e questo è intelligente farlo nelle esche veloci con cui non pasturo.